Start, 2, 1, boosted mission and lift off! Riempire facendovi, portandovi quello che è il titolo che io sto giocando adesso a livello principale. È un gioco che ho preso su Instant Gaming, l'ho pagato 11 euro, in realtà poi su Steam costa molto di più, quindi valutatelo, soprattutto lì sul link che trovate sotto in descrizione. Ed è un gioco che io mai avrei pensato di giocare, sono 30 ore circa di gioco, ma di partita sulla ventina, perché ho comunque dovuto ricaricare. Mai avrei pensato di affezionarmi a questi personaggi, a questa tipologia di gioco orientale. La serie Yakuza è stata tradotta da pochi anni in italiano, Like a Dragon è in italiano, è uscito anche quello dopo, Infinite Wealth, e poi c'è tutta la serie di Judgment che è ambientata sempre in questo quartiere di Yokohama. Il gioco è molto particolare e vi voglio far vedere perché mi sta piacendo molto. Ve ne parlo un po' così a ruota libera senza scrivere nulla. Una delle particolarità è che ha tutte queste funzioni qui, dalla funzione del telefono che vi permette di vedere i messaggi che vi arrivano sul telefono, la possibilità di vedere una sorta di Pokédex con tutti i nemici che potete incontrare, alcuni rari, alcuni li trovate solo in alcune location, in alcuni dungeon, niente di che. Poi abbiamo i pestamici e questi ne potete sbloccare una miriade, però dovete essere curiosi, cioè non dovete correre nella vostra partita, ma esplorare tutto quello che trovate in giro per la mappa. Perché? Perché le missioni vi dicono andate in un punto, ovviamente andate in un punto, c'è la storia, la storia è bellissima. Io non sono appassionato di cultura orientale, ma la sto apprezzando proprio grazie a questo gioco. Tanti colpi di scena, tradimenti, piuttosto che, appunto, colpi di scena inaspettati, in una città che sembra assolutamente viva. Perché voi potete vagare, ed è talmente bella come atmosfera, come audio, come sound, che spesso vi verrà voglia anche di camminare. Ci sono alcuni momenti, alcuni capitoli che si giocano di notte, altri di giorno. Come vedete qua davanti c'è questo taxi che io non ho sulla mappa e quindi, vedete, vado, lo utilizzo, ma non lo utilizzo perché esco, ma a quel punto mi rimane segnato sulla mappa. Lo vedete lì, adesso in basso a sinistra, nella minimappa. Quindi io ci posso viaggiare. Io ho sempre odiato, e potrebbe essere uno dei motivi per cui questo gioco può piacervi, io ho sempre odiato i giochi dove si combatte e basta, tipo gli Arkham di Batman. Io amo Batman, ma non mi piace combattere e basta. Qua potete anche semplicemente entrare ed esplorare. Esplorare questo quartiere perché una delle particolarità, stavo per dirvelo prima, poi andando a ruota libera me lo dimentico, una delle particolarità è che se volete fare una data cosa dovete andare in un dato posto. Ad esempio, tutti i posti che hanno questo simbolino qui della forchetta del coltello, sono dei ristoranti e sono dei ristoranti tutti diversi, è tipologia diversa uno dall'altro. Quelli che vedete invece con il carello della spesa sono negozi tutti diversi. Vedete qua la farmacia, io ho bisogno di cose curative magari prima di andare a fare un boss, prima di andare a fare una missione complicata. Vengo qui, non posso andare in qualsiasi perché ognuno vende cose diverse. Così come anche questo simbolino del joypad, sono tutti, questo è Mahjong, ci sono le slot, ci sono le sale giochi arcade con i giochi Siga, giochi di combattimento, di guida, cose varie. C'è il cinema che dovrebbe essere in una zona, non mi ricordo più dove, qua sotto qua. Il Seagal Cinema dove c'è un minigioco dove voi potete portare i vostri compagni e fargli salire l'amicizia che hanno con voi. Le amicizie portano, vabbè, alle romance, ma non solo, perché vi portano anche allo sbloccaggio di ulteriori classi, perché il gioco, e questa è una cosa che io apprezzo molto, questo personaggio qui, Ichiban, che voi impersonerete, è un appassionato di Dragon Quest e lui vede nella realtà Dragon Quest e gli sembra di giocare a Dragon Quest, tanto che dopo alcuni combattimenti dicono, ma voi non vedete quell'aurea malvagia intorno a quel nemico, non l'avete vista? Lo dicono, no, però se a te aiuta ad essere più reattivo e più performante nel combattere, a noi sta bene e non dà fastidio. Questa è la tematica assurda. Ma addirittura potrete sbloccare un compagno che interviene a pagamento, un intervento a combattimento, una ragosta gigante, ad esempio. Ha tutto questo elemento trash che a me sulle prime non piace, ma all'interno di questo gioco lo imparerete ad apprezzare. Altra cosa, a un certo punto, non troppo in là nella storia, potrete andare a gestire un'attività. Voi prenderete un negozio di biscotti, mi pare, che poi potrete espandere, quindi acquistare ulteriori proprietà e potenziando, assumendo, licenziando personale, potrete aumentare, diciamo, il suo reddito, il suo fatturato, diviso in quattro turni. Ogni quattro turni avrete l'assemblea con gli azionisti e lì dovrete assumere gente che va nel consiglio di amministrazione e parla con gli azionisti. E lì parte un altro minigioco dove viene tenuto a conto un po' della casualità e un po' dell'abilità della gente che avete assunto, che nel frattempo è livellata nei periodi, nei quattro periodi, nei quattro turni di vendite. Io sono in perdita totale, avevo 8 milioni, 5 milioni, li ho persi, ne ho solo 282 mila. Devo cercare di riportarla in piedi e riscalare. Questi soldi che avete all'interno, poi una parte, il vostro stipendio, viene accreditato nei fondi, che sono questi, del vostro personaggio. Quindi sono due attività separate. Non siete obbligati a farlo, ma aiutano. E sono tutte quelle attività che vi aiutano poi a ottenere magari un personaggio in più reclutabile, piuttosto che un oggetto raro, per l'equipaggiamento. Equipaggiamento che, adesso io vi faccio vedere un paio di cose, ed è una delle cose belle di questo titolo, è che, vabbè, prima di tutto io ho scoperto che questo vende belle armi, vedete che parlandoci io posso andare a comprare armi o questi, che mi interessano molto perché fanno recuperare un botto di vita, 150 ne ho, posso avere al massimo 10, ma anche armi, mazza ferrata, borsa torta di pelle, e così via, tante varie cose, che si abbinano ognuna qua, lo vedete, a una classe di un personaggio. Ma adesso spegniamo un po' di soldi e andiamo in taxi. Io ho sbloccato il taxi, quindi lo prendo, lo devo puntare bene, e voglio andare qua sotto, qui. Perché qua, vedete, io devo andare per forza lì, non ho altri modi. Il gioco ha una miriade di meccaniche che nessuno vi obbliga a fare, ma che farete se il gioco vi piace. Ovviamente sempre se il gioco vi piace. Perché? Perché io sono arrivato in un paio di punti, questo è uno di quelle, dove mi sono trovato di fronte a un boss veramente forte e avrei dovuto sudare sette camicie. Quindi ho detto, no, mi fermo, faccio un po' di attività secondarie, mi esploro un po', potenzio la classe dei miei personaggi e poi ci torno. E questo ovviamente non è pesante. Adesso poi vi faccio vedere un combattimento. In giro per le strade troverete anche queste persone. Quindi le incontrate e vi parte il combattimento casuale. Il combattimento casuale va dal... Vabbè, io sono l'eroe, posso scegliere altre classi, ma ho scelto l'eroe. Posso fare... È un menu simile a quello di persona, ma molto meno invadente, secondo me. Con la Q posso andare a attivare il Pest Amici, quindi quando reclutate per la prima volta delle persone tipo questi, che è un'assetta, diciamo, mafiosa che gioca a fare i neonati. Cioè è una roba fuori di testa. Non lavoro di giorno, siamo di notte, questo capitolo è di notte, quindi posso chiamarli, mi picchiano un nemico, ma mi butto via, che è, diciamo, la prima volta gratis, poi mi costa 10.000, anche la gallina, ma non lo faccio. Abbiamo gli oggetti, dove possiamo andare a usare oggetti. Possiamo andare con esca, a metterci in fase difensiva, quindi il turno dopo subiamo meno danni, attaccare semplicemente un nemico con l'arma che abbiamo in mano, o andare con il tasto spazio a usare una di queste abilità, divise poi per, ovviamente, attacco, recupero, supporto, o vederle tutte, con i punti verdi, che sono i punti verdi sotto qui, che vedete, io posso usare vari colpi, alcuni fanno danni ad aria, alcuni fanno danni a un nemico singolo, alcuni sono per se stessi, per gli alleati, tutti gli alleati, e così via. Io posso riportare in vita, ad esempio, un nemico, un amico caduto. Io uso il gioco di squadra, il gioco di squadra è la classica, mossa più forte, dove parte l'animazione, che poi la vedete le prime due o tre volte, poi lo saltate, dove vedete i compagni, avete più o meno, vengono tutti animati, vedete che vado, e faccio il colpo finale, lui parte via adesso, e ha subito un botto di danni, ne aveva subito i 400, immagino, 200, ok, e quando vi attaccano, se cliccate il tasto, è ESC, ma io ho messo il click del mouse, potete parare, subendo meno danni, quindi è un combattimento a turni, ma dinamico, io adesso, lei l'ho fatta, come classe, idol, idol, quindi è una guaritrice, ma non ha ancora le abilità, devo, adesso vi faccio vedere, ritmo più, però è tante, uso questa abilità qui, ci sono delle, vedete che tengo premuto, premio più volte il tasto E, faccio più danno, lui, io clicco, e faccio la parata, no, non clicco, non faccio la parata, io, lui l'ho equipaggiato, con una spada, veramente potente, infatti fa un botto di danno, ma questi sono nemici, delle zone iniziali, quindi fanno meno danno, e vedete che sfruttano, sia voi che i nemici, gli elementi ambientali, io adesso lo attacco normalmente, con questo bastone qui, e li elimino, faccio esperienza, adesso lo faccio attaccare, con le calecca gigante, vedete che, e attaccano in automatico, i nemici che hanno vicino, quando sono a terra, invece, gli fate più danno, ok, abbiamo vinto, degli yen, dell'esperienza, e dell'esperienza lavoro, infatti vedete che loro hanno un livello, e il rango del lavoro, perché? siamo venuti qua, non a caso, perché ormai la zona, poi inizierete a conoscerla, qui c'è, Hello Work, come si chiama, Hello, si, si chiama così, o Hello Job, non mi ricordo, Hello Work, e qui potete andare a parlare, con questa signora, questi sono personaggi, soprattutto lui, lo conoscerete nella storia, vi resterà in mente, perché comunque, vi darà una mano, qua potete parlare con Rierica, e qua vedete che mi dice, che se avessi, forse un po' più risoluto, un'autostima a livello 10, potrei tentare la romance con lei, perché? Prima di farvi vedere il cambio lavoro, c'è, nel nostro, nelle nostre statistiche, adesso devo vedere dov'è, vedete che c'è, adesso devo trovare dov'è, squadra, controlla statistiche, vedete io sono Ichiban, posso vedere, la mia personalità, che aumenta man mano, potete, e anche qui lo scoprirete nel gioco, scoprire una scuola, dove farete dei quiz, con risposta multipla, proprio da dare, farla giusta, spendendo un sacco di soldi, aumentando queste cose, oppure, nelle risposte che datene in gioco, non sono tantissimi questi eventi, e quindi non è un The Witcher, dove si determina la storia, o in base alle azioni che farete, o le abilità che userete nel corso dell'avventura, e dei mille minigiochi, e delle mille quest secondarie, personalizzerete la personalità appunto di lui, e andrete poi a poter sbloccare le romance, questa è un'altra cosa, cambia lavoro, vedete che ogni personaggio, poi ne manca uno o due, ma non vi dico nulla della storia, posso andare a prendere lei, lei può fare, ha fatto la hostess, che faceva un buon danno, perché comunque spruzzava lo spumante sugli avversari, faceva tanto danno, velenoso, l'ho cambiato per farla idol, vedete che, ad esempio, la idol, se non sbaglio, vabbè, guardiamo il mazziere, il mazziere chiede che lei sia di livello 25, e legame 4, io ho un legame con lei di 2, ho un legame con tutti i miei compagni di 2, ho dovuto portare il livello a 2, per sbloccare ad esempio la regina della notte, vedete che dice legame 2+, livello 20 e legame 2+, quindi il livellare i personaggi, vi sblocca nuovi lavori, nuove classi, ma al tempo stesso anche lui, lui è un bodyguard, potrei farlo diventare un musicista, mi chiede legame 3, io ho già legame 3, perché è il primo personaggio che conoscete in gioco, quindi sono un po' più avanti rispetto agli altri, può diventare un breaker, un agente e quindi qui diventa rispettivamente il tank, piuttosto che questo fa tanti danni con le armi da taglio, io sono un eroe, però posso fare il breaker, il bodyguard e vado a sbloccare tante altre cose, vedete qua con autostima 7 posso diventare io stesso agente e così via, e qua si cambia lavoro, ma non è che lo fate da un altro menu, vi circate, quindi questo è bello, vi prendete una pausa e dite mi faccio un giro per la città, magari il capitolo è mentato di notte, e vi godete un po' questa Yokohama di notte, e ve lo fate, ma non siamo qua per caso, perché qua, intanto vedo che quelli lì, mi girò a largo, ci sono tanti posti, come ad esempio qui dietro c'è, Ben Tempone, l'unico posto, e l'ho scoperto cercandoli in internet, dove è possibile vendere oggetti che non usate, ma non andremo lì, c'è una mini quest da fare, lo sbloccate, ma vado qui, qui, altra quest da fare, sblocco questo, con lei ho la possibilità ovviamente di una romance, che non ho, perché devo essere più pimpante, ma qua è possibile migliorare le armi che avete creato, vedete lei usa questo, questo ghiacciolo, questo lecca lecca, non lo so cosa sia, posso potenziarlo, ma in realtà non posso, perché il rango laboratorio non è abbastanza alto, quindi io devo investire soldi in questa attività 200.000 yen, posso potenziare le armi che ho, posso creare un'arma nuova, vedete in questo caso posso farlo, bastone segnalettico, ghiacciato, e va bene per lui, se facesse l'agente, quindi no, e mi consuma questi materiali che vedete qua sotto, che si recuperano facendo le varie missioni, posso creare anche armature, parti di armature, infatti ogni personaggio ha il suo equipaggiamento, ovviamente, magari l'avrete già notato, ma loro sono vestiti normalmente adesso, mentre i vestiti che indossano quando cambiate lavoro, perché quando cambiate lavoro, assegnate il nuovo job a una persona, li potete scegliere l'outfit, ce ne sono 3-4 da scegliere, penso di più se avete anche i DLC, e li vedete in combattimento, mentre invece le parti di armature che si equipaggiano da qui, no, ovviamente avendogli dato queste cose qui, parastinchi, così queste non si vedono, ma si vedono, vedete che il vestito, ma non solo lei, lui, io sono sempre uguale, vedete che sono notevolmente diversi da come sono vestiti adesso, questa è un'altra cosa, l'attività, quella economica, la gestite qua in alto, dove c'è, adesso questa qui, l'Iciban Confections, quindi per andare a gestire quel discorso dell'attività, è qua, mentre invece il capitolo 5, che è uno dei capitoli più lunghi e tediosi, ma che merita alla fine, vi sblocca il dungeon, ovviamente se io adesso sono un po' indietro di livello, voglio andare avanti, voglio farmi trovare, farmare, roba seria, vado a farmi il dungeon, e mi faccio il dungeon con, la possibilità di arrivare magari fino a un certo punto, e poi scegliere se proseguire o no meno, infatti ci sono dei checkpoint, dove è possibile andare a, adesso aspettate che scelgo il quartiere, vado qui, sì, così vi faccio vedere un po' tutto, e adesso, io sono arrivato qua, tanto sono vicine, quindi vado giù, ovviamente bisogna stare attenti, e non farsi investire, perché, farsi investire, significa perdere 100 punti vita, subito, stando sempre attento, che non ci siano rossi, perché, soprattutto perché è una scocciatura, è una partita di tempo adesso, perché, in questa zona sono abbastanza deboli, poi, vi godrete le varie ambientazioni, tipo qui succedono delle cose, cioè, l'ambientazione non è enorme, non l'ho ancora esplorata tutta, ne manca ancora, però, vi entra in testa, quindi vi piace, e ve lo dico da, non appassionato di cultura orientale, questo è il negozio, dove voi potete comprare, ma il negozio è vostro, perché andando dietro, potete andare a gestire, il discorso della, economia aziendale, vabbè, cocco dè, vabbè, anche quello è un personaggio interessante, questa è, vedete, torno alla gestione, posso vedere, tutto il menu, queste persone, le ho incontrate per strada, e gli ho detto di presentarsi qui, e candidarsi, infatti qua posso gestire, la proprietà, andando a comprare altri negozi, posso potenziare, potenziare, assegnare personale, pagare i dipendenti, prendere prestiti, andare in sala, scegliere chi andrà in sala, riunioni con gli investitori, quindi facendogli salire di livello, posso andare all'assemblea degli azionisti, abbiamo fatto dei buon profitti, comunque negli ultimi mesi, questo è totalmente staccato dall'avventura, cioè potete mandare avanti ciclicamente, è un minigioco, è abbastanza interessante, devo dire, poi, ormai so a memoria, attraverso, adesso vedo se ce la faccio attraversare, sì, dovrebbe esserci qui, vedete, qua posso scendere, andare a fare il dungeon, e qua parte il dungeon, dungeon sotterraneo di Yokohama, quindi posso, intanto mi scrivo quelli lì, mi faccio il mio farming di oggetti esperienza, perché poi potrete andare ad ottenere oggetti per il crafting, adesso mi sono infilato in un ginepraio, perché ci sono loro, come ho detto, è solo una partita di tempo adesso, perché li abbatto comunque senza usare super mosse, ma appena mi sposto e vado in un quartiere, comunque un pelino più avanzato, lì la lotta diventa già più interessante, ci sono tantissimi giochi, ci saranno anche la gara in go-kart, potete andare a fare la gara di raccoltare delle monete con i carretti, sono tutte cose che vi portano un minimo di soldi, questo è il primo luogo dove arrivate dopo il prologo, vi verete qui per un po', il gioco è intrigantissimo, anche per i non appassionati di giochi a turni, e collezionabili finché ne volete, ogni volta che girate trovate un punto, ad esempio io non so che cos'è questo, è una caccia al tesoro, quindi mi farà cercare un oggetto in giro per la città, non saprei che altro dire, qua avete il crafting anche nel telefono, quindi potete vedere cosa potete craftare, il taxi, ah ok qua lo si paga di più, però si viaggia, 1100 invece che 730 yen, vedete il carto sono ancora bloccati, abbiamo gli oggetti, le tecniche che vedete sono quelle che abbiamo, ognuno poi col suo quick time event per far più danno, e le attività sono le missioni che abbiamo, io attualmente sono al capitolo, non mi ricordo cosa, capitolo 8, ce ne sono 15, sono a, su Steam mi segna 28 ore circa, sono 20 in totale, perché comunque sono arrivato in un punto, in un boss, dove non lo battevo, comunque per un pelo non ce la facevo, volevo stare più tranquillo, o sono tornato qua, ho farmato un po' di roba, qua cosa mi segna, caccia il tesoro anche qua, ce ne sono, ma troverete dei simboli di dialogo, il fumetto con i tre puntini, lì sono queste secondarie, da fare, perché comunque vi sbloccano, o picchiatori che vengono in combattimento, piuttosto che oggetti, piuttosto che nuove funzioni di gioco, e è figo perché ad esempio anche la sala giochi, la sala giochi vi dà dei gettoni, e i gettoni non sono fini a se stessi, non sono per intrattenervi, ma anche lì c'è un elenco di cose, che poi vi premiano, dandovi oggetti, potete andare, io in questo caso sono andato a fare la pesca, ho regolato il braccio, il robot, per prendere uno di quelli, ho speso un po' di soldi, e ho vinto quell'oggetto, quell'oggetto magari mi serve per il crafting, o piuttosto per rivenderlo al banco dei pegni, abbiamo la possibilità di giocare a Virtua Fighter 2, questi sono ovviamente puro scopo ludico, ho trovato anche una sala del golf, ma non ci sono mai andato, mentre invece qua in alto c'è appunto quell'istituto, che vi dicevo, che è questo, istituto professionale o una bara, che praticamente vi consente di fare dei test, e pensate che sono talmente fuori, questi qui che voi, fate i test, io ho trovato un test di cultura generale, quindi mi facevano le domande, avevo quattro risposte, sceglievo quella giusta, e alla fine mi hanno, ho consegnato il test, e mi hanno detto se ero promosso o meno, ed è livellabile in più livelli, quindi fa salire i vostri certificazioni personali, così come la personalità cambia, aumentano i punti, ma c'è un tizio fuori, che se ci parlate, vi propone a un prezzo altissimo, una penna, una matita, che vi rotola, vicino alla risposta esatta, oppure ve ne elimina due, cioè ci sono mille, mila cose, che voi potete esplorare, ovviamente senza avere la fretta, di giocare già al gioco dopo, o di fare altro, perché se no lasciate perdere, ogni ristorante, ha un menù preciso, e ha, un bonus che vi dà, alla fine, dopo aver mangiato, questo vi fa salire, l'affiliazione, diciamo il cuore, verso i vostri compagni, lo fate spesso, e vi da, vi cura anche i punti delle abilità, i punti vita, ma, se voi andate a scoprire, in questo caso ne ho scoperto uno, delle combinazioni, in questo caso sono tre combinazioni, da tre, quindi io prendo questo, più l'insalata, più la birra, io spendo un tot, prendo mila e nove cinquanta, ma mi dà un bonus in più, oltre a curare i PS e i PT, mi dà un bonus al danno, per un po' di tempo, per qualche combattimento, quindi io posso andare a ordinare, ordino, adesso inizieranno, ci siamo, diamoci dentro, mangiano tutto, mangiano tutto, sale, vedete il legame, ma anche il bonus, e ogni ristorante, ha un menù diverso, delle combinazioni, da scoprire, diverse, e, un bonus, appunto che vi dà, alla fine, diverso, poi queste so che non mi danno nulla di che, dei potenziamenti, però ogni tanto ne trovo qualcuno di nuovo, questo curano, ma curano veramente poco, e devo trovare ancora dove andare, ma il bello è che, ha talmente tante cose, che potete andare anche online, e cercare delle guide, e dire, dove vado a comprare queste cose, ok, oppure per sbloccare quella cosa lì, no, devi fare prima quella secondaria, boom, vado, la cerco, la faccio, è talmente tanta roba da fare, la storia vi porterà via, circa una quarantina di ore, da quanto ho visto, calcolando che sono al capitolo 8, sono 15, sono metà, ma in realtà, è lunga, è lunga ancora, soprattutto per arrivarci agevolmente, anche perché, se calcolate, ogni, ogni classe, che voi potete prendere, con il vostro personaggio, fino forse a livello 20, 25, prendete delle abilità, dopodiché è solo potenziamento, quindi potete arrivare potenzialmente, anche a livello 60, 70, con la vostra classe, ma vi potenzierà semplicemente attacco, quelle cose lì, quindi nessuno vi obbliga, cioè potete anche correre, però, non essendoci un livello di difficoltà al momento, ma è giocabile così, si può scegliere solo nel New Game Plus, dovrete comunque perdervi via, fare qualcosina in secondario, se non volete fare niente di secondario, vi fate il dungeon, vi salite un po' di livello, ma se no, no, però anche solo vedere, cosa bella, a parte questo bellissimo paesaggio, ma vedete tutti quei fili, non sono messi a caso, tutti quei fili vanno in un dato posto, che per la storia, io ho conosciuto, so che quartiere è quello, so che cosa ho fatto io lì, le vicende di inizio gioco, sono tutte cose, che tanti altri giochi, non vi danno, non vi fanno entrare dentro, e quindi, io, questo Yakuza, Like a Dragon, lo sto apprezzando davvero molto, poi, io sono molto, diciamo, vado in base al mood, quindi, può darsi anche che, magari mi passi un po', non ci giochi per qualche giorno, smetta di giocarlo, come ho fatto con tanti altri titoli, salvo poi riprenderli, però il gioco è veramente eccezionale, se voi avete la fortuna, che io non ho, di comprare un gioco, e dedicarvi solo a quello, questo vi farà passare almeno 100 ore, fatemi sapere, che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, io vi saluto, vi ringrazio, e vi rimando, a un prossimo videogameplay, alla prossima, e ciao ciao. Grazie a tutti.